Buongiorno a tutti e benvenuti a Body Health & Lifestyles, la prima rubrica creata da Calcio Femminile Italiano in collaborazione con le nutrizioniste e le fisioterapiste per migliorare e per parlare e sostenere di questo meraviglioso sport che è il calcio femminile. Io mi presento, mi chiamo Ilaria Carelli, sono una biologa nutrizionista specializzata in alimentazione sportiva. Il video di oggi ha come titolo l'alimentazione nelle giovani calciatrici. Mi rivolgo principalmente ai genitori di queste giovani calciatrici che sono ragazzi in età scolare e adolescenziale che svolgono un'attività sportiva intensa, il calcio, quindi con frequenze anche abbastanza sostenute e questi consigli hanno l'idea di darevi delle dritte per far sì che le vostre figlie siano in salute e anche per migliorare la loro performance. Vi elencherò alcuni consigli che potete attuare per le vostre figlie. Allora, il primo consiglio è quello di evitare di saltare la prima colazione. La prima colazione è il pasto principale, deve essere particolarmente ricco in nutrienti e curato. Poi la dieta deve essere una dieta varia, deve garantire l'apporto di tutti i nutrienti necessari per le attività che siano dentro il campo ma anche fuori dal campo perché ricordatevi che le vostre figlie spendono anche altre energie perché vanno a scuola, fanno magari un'attività fisica a scuola, sono comunque in movimento. Poi ricordarsi di non entrare in campo a digiuno da troppo tempo ma anche quando la digestione è in atto quindi avere un timing di introduzione degli alimenti che sia corretto. L'energia necessaria al calciatore deve derivare principalmente dai carboidrati. Mi raccomando, non abusate in proteine. Poi vi ricordo di questi carboidrati, scegliete dei carboidrati che siano poveri di zuccheri semplici e anche di prodotti che contengono pochi grassi. Quindi evitate o limitate il più possibile quelle che sono le merendine, gli snack e le bibite. Il sovrappeso negli atleti si manifesta principalmente perché si consumano degli zuccheri semplici concentrati nei tre pasti principali. Quindi il consiglio che vi do è quello di aumentare le frequenze dei pasti da tre a cinque in modo che ci sia una colazione, uno spuntino, un pranzo, una merenda e una cena. Altra cosa da tenere in considerazione è la masticazione. Più tempo ci mettete a mangiare e a masticare, meglio ne gioverà la digestione e l'assorbimento nei nutrienti. Infine vi ricordo alle vostre figlie di bere, questo non solo durante lo sforzo ma prima e anche post allenamento partita. L'acqua è contenuta anche nella frutta e nella verdura oppure in altre bevande come possono essere i succhi o il latte. A proposito poi di frutta e verdura, il consiglio è quello di ricordarsi di mangiarla regolarmente tutti i giorni, possibilmente portando a tavola della frutta e della verdura di colori differenti. Infine per le ragazze che hanno un ciclo mestruale abbondante e quindi hanno perdite ematiche, magari ematiche e carenze di ferro, vi consiglio di abbinare fonti di ferro con acido ascorbico, cioè vitamina C, in modo da aumentare l'assorbimento di ferro dalla dieta. Quindi per esempio quando mangiate gli spinaci conditeli con limone. Infine un consiglio che vi posso dare è quello di creare un planning dietetico settimanale insieme alle vostre figlie, in modo da rispettare gli allenamenti e le partite, in modo da avere un corretto apporto nutrizionale. Affidatevi a delle figure competenti se avete bisogno di indicazioni un pochino più approfondite. E io vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati su questi argomenti, ma altri argomenti, vi consiglio di seguire il canale YouTube di Calcio Femminile Italiano. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto per il prossimo video. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi ringrazio per avermi seguito e vi ringrazio per avermi seguito. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi ringrazio per avermi seguito e vi ringrazio per avermi seguito.